Gentili telespettatori, buona puntata. L'allarme di Ghisleri, detta la maga dei sondaggi direttrice di Euromedia Research, parla di Giorgia Meloni agli occhi puntati addosso che cosa rischia prima del voto. Dice che la Meloni sta facendo una campagna con i piedi per terra. Ha chiesto di non fare proposte mirabolanti, meglio ha detto di non scrivere stupidaggini, perché sa di avere gli occhi di tutti puntati addosso. Anche perché gli attacchi saranno molto più pesanti di quelli ricevuti da Berlusconi e Salvini. Così Alessandra Ghisleri parla di Giorgia Meloni, la leader favorita il 25 settembre. Nonostante questo però la sondaggista ha messo in guardia chi si sente già sicuro del risultato finale. Non bisogna, dice, basarsi solo sui dati usciti in queste settimane. Tutto si deciderà come sempre, pensate bene, si deciderà tutto dal 15 settembre al 25 settembre, negli ultimi dieci giorni della campagna elettorale. Lì gli indecisi diranno il mio voto va o non va, qui o là. A incidere sull'esito del voto, dice la Ghisleri, è questo. Intanto abbiamo un bacino del 40% di indecisi. Indecisi, quattro elettori su dieci sono indecisi. Pensate un po'. Quelle percentuali, la Meloni al 25, il PD il 23, la Lega al 12, Forza Italia al 5, quelle percentuali sono in base al 60% degli elettori che dicono di andare a votare. Ma c'è un altro 40% che non ha detto, non dice, forse non voterà. Forse sono molti dei delusi del centrodestra, perché voi sapete ad esempio che nell'ultima elezione a Roma, che l'ha spuntata Gualtieri del PD, dove Calenda ha avuto il 21%, semplicemente gli elettori di centrodestra sono stati a casa, mentre quelli di sinistra si sono vestiti, hanno fatto colazione, sono andati diligentemente a votare, perché loro lo sanno, la stensione favorisce il centrodestra, allora sono andati tutti a votare, tutti, tutti in modo di dire, ma quasi tutti, mentre nel centrodestra, belli tranquilli a casa, no aspetta, io devo guardare la televisione, votare, ma no, ci vanno gli altri, ma cosa cambia, sono tutti uguali. E così, col sono tutti uguali, io sto a casa, ha vinto Calenda, cioè scusate, ha vinto Gualtieri, quello con la chitarra che cantava Bella Ciao, e adesso davanti la spazzatura vi canta Bella Ciao, e adesso non lamentatevi, eh, non siete andati a votare, e mo' vi tenete Roby Gualtieri con la chitarra che vi canta Bella Ciao, ecco, la mattina vi sveglia sotto il balcone cantandovi Bella Ciao, e voi dovete andare sul balcone a dire andrà tutto bene, eh, intanto con le buche, i topi, quelle robe lì. Pertanto, quattro italiani su dieci dicono, non lo so, cosa voterò, magari non voto, magari ci penso all'ultimo minuto, sento una cosa che mi piace da un politico, anche se so che è una palla per farmi andare a votare, perché dicono un sacco di bagianate, ne abbiamo già sentita qualcuna clamorosa, no? Le promesse da marinaio, mamma mia, che pena, che pena mi fa e quando lui ti chiederà un albero in più, al posto che il milione di berlusconi ne pianterò 50 in più. Vabbè, avete visto, vi canto anche, potrei andare a Sanremo io e le Virostar, eh? Potremmo fare un quartetto, il quartetto cetra. Va bene, a parte le cretinate che vi sto raccontando, dice così, metà di questi, di quel 40% di indecisi, sicuramente non andrà a votare. L'altra metà, almeno il 10, si potrà fare allettare da qualche buona proposta, come spesso è avvenuto in passato. Il riferimento è a proposte come quella di Berlusconi sull'eliminazione del Lice e del Limbo del 2008, gli 80 euro in busta paga di Renzi, il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, la flat tax di Salvini alle europee del 2019. Pertanto di quel 40%, dice, almeno la metà o il 10% andrà a votare. Il 10% di quelli che oggi si dicono indecisi andrà a votare. Quanti sono gli elettori in Italia? Domandone, lo sapete? Sono 46 milioni. Il 10% di 46 milioni è 4 milioni e 600 mila. Quindi 4 milioni e 600 mila italiani decideranno e sicuramente andranno a votare in base a quello che ascolteranno negli ultimi dieci giorni. Guardate che il 10% è tantissimo. Provate a mettere il 10% su Fratelli d'Italia va al 35%, provate a mettere il 10% sulla Lega va al 23%, mettete il 10% sul PD va al 32-33%. Ovviamente è un conto fatto così, però questo per farvi capire che il 10% che sicuramente tra quegli indecisi andrà a votare in base a quello che ascolterà negli ultimi dieci giorni. Lo sguardo sul voto, dice la Ghisleri, si farà più consapevole al ritorno quando gli italiani troveranno le bollette nelle buche delle lettere, torneranno dalla vacanza che avranno speso tutto in gelati e in ghiaccioli, troveranno un bel devi pagare entro il 10 di settembre 540 euro di luce, dice ma sono stato in ferie e li devi pagare lo stesso e quindi quando troveranno quelle bollette, come si dice, in testa, non gli salirà la in testa. E così dovranno acquistare i libri scolastici per i figli, oh mamma, anch'io devo andare, no i libri li ho già presi ma devo andare a prendergli tutti i vestiti perché insomma ho speso, io per i libri ho speso 430 euro per tutti e due, 430 euro, per fortuna li avevo, se non li avevo facevo le fotocopie, no, le fotocopie costano più del libro, quindi e quindi per fortuna che li avevo, devo ringraziare che ce li ho purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna non purtroppo. Comunque a quel punto, dice la Ghisleri, tornerà alla vita di sempre, gli elettori saranno più disponibili a captare le proposte concrete, non le bagianate, non le stupidaggini, eh? Parliamoci chiaro, non le stupidaggini che stanno proponendo taluni e talaltri. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci e arrivederci e grazie.